Dietro ogni immobile si nasconde il lavoro dei professionisti dell'edilizia. Preparazione e competenza per realizzare con soluzioni all'avanguardia i tuoi sogni. Aleste Costruzioni. Costruzioni, demolizioni, ristrutturazioni, restauri conservativi, movimento terra e manutenzioni. Aleste Costruzioni. La qualità al tuo servizio. Eleganza, qualità e cura dei dettagli. Per l'uomo, la donna e per la cerimonia. Scegli tosti e abbigliamento. L'abito giusto per ogni occasione. Voglia di sport? Da Aimone trovi abbigliamento ed attrezzatura per tutte le discipline. Basket, calcio, running, climbing, tennis, danza, ginnastica ritmica e skate. Vieni a scoprire i migliori brand nel nostro store. Invia Giovanni Falcone 14 a Rieti. Aimone. I'm the one. Eccoci, la rana nel pozzo. Bentornati, bentornati. Grazie per gli ascolti di questa trasmissione, ma anche di tutto il palinzesto. Ci state seguendo la nostra web tv, seguite la nostra web tv quando volete, dove volete, con ogni device che preferite. Quindi quando volete vi presento subito il nostro ospite di oggi, il consigliere comunale del Partito Democratico, Emiliano Avetti. Buonasera. Come sta? Bene, tutto a posto. Bene, ho detto il consigliere comunale. Sì, la consigliera. La consigliera. Sa che a me non piace molto declinare in questo modo, però va bene. Ma, però, ci può stare. Va bene, va bene, ci può stare, ci può stare. Come sta? Tutto a posto. Tutto a posto, bene. Un anno e mezzo è il consiglio comunale, lei è consigliere comunale del Partito Democratico, come abbiamo detto. Come, quante volte è stata il consiglio comunale? Allora, questa è un po' una polemica che io faccio con il consiglio comunale, con il presidente del consiglio comunale, perché solitamente si convocano i consigli la mattina, una polemica, nel senso un consiglio che ho cercato di dare. Io credo che fare politica significhi anche fare il proprio lavoro in maniera totalizzante, totale e professionale. Quindi il fatto di non poter andare al lavoro, seppure io posso soffrire dei permessi, per me, per quanto mi riguarda, non è giusto e quindi ho chiesto più volte di convocare i consigli comunali nel pomeriggio. O magari una volta nel pomeriggio, una volta alla mattina, in modo tale che si permette a tutti di poter partecipare al consiglio comunale e nello stesso tempo di poter andare al lavoro, perché non tutti fanno la libera professione e quindi possono organizzarsi al meglio e perché la maggior parte di noi la mattina comunque ovviamente va al lavoro. Risposta del presidente che salutiamo? Sì, lo saluto, ma non ho avuto risposta da Claudio rispetto alla mia proposta e alla mia richiesta che ho fatto più volte. Scritta, gli ha scritto? Sì, sì, anche scritta. Non ha risposto? Non mi ha risposto. Oh Valentini, ci deve rispondere. Eh, Claudio, io credo che sia giusto fare una volta al pomeriggio e una volta alla mattina. Io vorrei andare al lavoro la mattina perché penso che quello sia il mio compito e il mio dovere. Va bene, quindi aspettiamo una risposta curiosa a questa cosa. Non avevo mai pensato che potesse creare problemi, effettivamente. Ma in realtà non è che crea problemi. Non è un problema, però ci facciamo un po'. Eh, magari farlo una volta alla mattina, una volta di pomeriggio, secondo me potrebbe essere, visto e considerato che noi abbiamo, che il presidente del Consiglio ha la libertà di convocare i consigli o la mattina o il pomeriggio. Nella famosa, quella che si chiamava Prima Repubblica, di solito si facevano davvero i pomeriggi, questo me l'ho anche raccontato Paolo Bigliocchi, e si andava fino a sera, molto tardi, però si facevano di solito il pomeriggio. Ora, io non chiedo di farli sempre nel pomeriggio perché anche lì potrebbe creare un problema ad altri colleghi consigli. Aspettiamo che ci risponde Valentini, magari non c'è lui il pomeriggio. No, non è una battuta. Vabbè, non penso, non credo. Allora, avete licenziato diversi comunicati come il Partito Democratico in questo ultimo periodo. Non siete molto contenti di come stanno andando le cose? Ma, guarda, tu insomma, lo sai, tutte le volte che sono venuta qua io sono proprio abbastanza collaborativa. Il problema è che per collaborare ci vuole che l'altra parte voglia ascoltare, bisogna essere in due, perché collaborare da sole è abbastanza semplice. O complesso. Sì, va bene. Però, comunque, non mi sembra che ci sia da parte della maggioranza la volontà di voler ascoltare, di voler confrontarsi. Perché tutte le interrogazioni che noi abbiamo fatto, abbiamo fatto anche ultimamente due importanti richieste di consiglio straordinario e per quanto riguarda le scuole. E come potete vedere anche, c'è adesso il problema dello spostamento della scuola Marconi. Io ho fatto richiesta di accesso agli arti per capire se lo stabile che inviamo a Eticaio ha tutte le certificazioni necessarie per far stare i bambini. Da quello che si vede così, ad occhio nudo, da fuori, sembra che comunque almeno la manutenzione ordinaria in quello stabile vada fatta. E in ogni caso abbiamo richiesto un consiglio straordinario per capire qual è lo stato dell'arte per quanto riguarda le scuole e per capire quali sono le tempistiche. Ovviamente a questa nostra richiesta non c'è stata risposta. Nemmeno qui. Così come abbiamo fatto la richiesta di un consiglio comunale straordinario per capire sui fondi del PNRR, perché si sa perfettamente dallo Stato che sono stati tagliati diversi milioni di euro per quanto riguarda la provincia di Rieti. Ne parliamo tra un po'. Esatto. E quindi volevamo capire quali sono le opere che non saranno fatte o che comunque verranno fatte probabilmente con altri fondi. Quali sono questi altri fondi? Cioè da dove si tolgono i fondi? Ci sono varie cose delle quali noi vogliamo parlare. Non ultima la Commissione di Controllo e Garanzia che il Presidente di Commissione Paolo Bigliocchi ha convocato per mercoledì, alla quale non si è presentata la maggioranza. Era di mattina o di pomeriggio? Era di mattina. Davvero. Però stanno facendo un sacco di cose. Questo si può dire oppure no? La Giunta sta lavorando, sta cambiando un po' la città. Allora, sì, la Giunta sta lavorando, è sicuramente un momento propizio per quanto riguarda i fondi che arrivano sulla nostra città e sulla nostra provincia. Su questo mi sembra abbastanza lapalissiano. Il problema è come vengono spesi questi fondi. Ma soprattutto anche il fatto di voler coinvolgere la città. E tu la città la coinvolgi se coinvolgi il Consiglio Comunale. Quindi ad ogni richiesta che noi facciamo, che ripeto, sono sempre richieste per capire, per sapere, per riportare ai cittadini quello che sta succedendo, se ad ogni richiesta non c'è mai una risposta, è evidente che poi le decisioni vengono prese da pochi e non vengono socializzate con tutta la cittadinanza. Ma soprattutto, proprio per questo, non vengono socializzate con il Consiglio Comunale, né attraverso commissioni, né attraverso il Consiglio Comunale stesso. E io penso che sia importante questo, perché altrimenti la funzione della politica, anche della minoranza, non esiste più, soprattutto perché numericamente siamo pochi. E quindi ovviamente se andiamo a votare è evidente che questo ci sta, ma ovviamente questa è la dialettica, è la democrazia e quindi è giusto che sia così. Ma la democrazia vuole anche un confronto. Anche su ASM avete chiesto i chiarimenti, c'è stata una segnalazione alla GCM, vi hanno dato risposta qui in questo caso e se ci spiega che cosa è successo. No, abbiamo chiesto i chiarimenti, non c'è stata data risposta, ma contestualmente abbiamo convocato la commissione controllo e garanzia, dove la maggioranza non si è presentata, o comunque in minima parte. C'era solo un membro della maggioranza, che ha garantito il numero legale per poter fare la commissione. Vorrei però sgombrare il campo da qualsiasi dubbio rispetto alle vicende ASM, nel senso noi siamo assolutamente a favore per la ripubblicizzazione dell'ASM. Le nostre perplessità da sempre sono quelle dell'iter che è stato seguito per la ripubblicizzazione, che si sta seguendo per la ripubblicizzazione. La nota dell'AGM sicuramente ci ha allertato, non mi addentro in questa situazione, è una situazione molto tecnica, però sicuramente quello a cui noi teniamo è che il servizio per i cittadini venga fatto bene, che i lavoratori siano tutelati e che l'azienda sia tutelata. Quindi azienda, lavoratori e cittadini, per noi questi sono gli obiettivi principali e quindi la ripubblicizzazione, su quello non c'è dubbio. Io penso però che anche qui questo sia un percorso da fare insieme, maggioranza e minoranza, non si può fare un pezzo che la maggioranza fa senza informare la minoranza, visto e considerato che l'obiettivo è assolutamente lo stesso. Quindi, proprio per il discorso che facevo prima, credo che ci siano, soprattutto in questo momento storico, in cui è il famoso treno che passa una volta sola e non passa più, tutto quello, tutti i fondi che arrivano e tutto quello che si fa e che si sta facendo deve essere condiviso, deve esserci una concertazione. È evidente che poi c'è la dialettica politica che c'è, deve rimanere perché è sacrosanta, però... Dice tanto più su un tema su cui siamo d'accordo, fondamentalmente. Siamo d'accordo, noi non siamo, non è che non siamo, abbiamo delle perplessità sull'Iter. ASM gestirà per altri cinque anni gli impianti del Terminillo. Esatto. Anche qui. Anche qui ci sono delle perplessità, ma non il fatto che... Nel merito, perché è una cosa... Assolutamente, non nel merito, ma anche qui io ho cercato di capire. C'è un contratto, quanto paghiamo, quanto costa, sono andato nel sito dell'ASM e dove non c'è niente, e lì dovrebbe esserci per la trasparenza, ho visto nel sito del Comune di Rieti. Cioè, come è stato quantificato l'affitto che si paga. D'altronde, se questa è una roba dei cittadini, è una cosa dei cittadini, i cittadini hanno il diritto di sapere. Quindi per la trasparenza deve essere tutto pubblicato. Ma io non ho trovato nulla. Quindi, guarda, noi facciamo spesso una battuta che probabilmente avremmo fatto meglio a leggere Rieti Life il giorno invece di fare i consiglieri comunali, perché ne sa molto di più la stampa che noi. Bella idea questa però. Eh, probabilmente era anche meno faticoso. Meno faticoso. Sarebbe stato meno faticoso, esatto. Bene. Va bene, aspettiamo allora che qualcuno ci dia risposte. Chiarimenti ha chiesti anche per il forte male odore che c'è da un periodo a questa parte, qui a Campoloniano. Allora, anche lì, apprendo da Rieti Life, che il sindaco dice abbiamo capito qual è il problema, si risolverà. Ora, tu sei meglio di me che questa cosa l'ha detta due settimane fa, più o meno, forse anche un po' di più. Noi abbiamo scritto all'ASL, abbiamo scritto alla Prefettura, abbiamo scritto all'ARPA. Abbiamo mandato la nostra nota sia al comune, quindi al sindaco, per capire, perché ovviamente non sappiamo di che cosa stiamo parlando e perché i cittadini di Campoloniano comunque sentono questo odore ancora, questo fortissimo odore ancora. molti sono preoccupati anche per il fatto che si sente moltissimo lì nella scuola e quindi non riescono a capire i bambini che cosa stiano respirando. Il sindaco ha detto proprio qui da voi che avevano capito l'origine e quindi stavano risolvendo, non mi sembra che sia così. Quindi abbiamo chiesto di capire che cosa stesse succedendo, non ci hanno risposto. Sì, questa è una cosa da accelerare, da far accelerare, se abbiamo capito dobbiamo andare a risolvere, perché potrebbe essere un problema. L'ARPA su questo, ma anche l'ASL potrebbe dare le risposte un po' più precise, credo, no? Certo, certo. Io allora da quello che ho letto, anche l'assessore Sanesi ha detto che tutti gli organi preposti sono stati informati e stanno lavorando. Ma forse sarebbe il caso anche di incontrare i cittadini e dire loro, guardate, si sta facendo questo, questo e questo, non vi preoccupate. Oppure, appena ne sapremo di più, far brancolare nel buio un quartiere intero, oltretutto il più popoloso di Rieti, io penso che non sia neanche giusto. Si può fare anche una nota, insomma, acceleriamo questa cosa qui, su questo punto sollevato da Rieti Life, dove ovviamente ne hanno parlato tutti, fin quando non ne parlare di Rieti Life su alcuni temi, c'è sempre, ne parlano dopo, per noi va bene. Va bene così, basta che risolviamo i problemi. Volevo farvi una domanda sullo zuccherificio anche, e anche lì si è andati un po' allo scontro, tra virgolette, con l'assessore Rositani, che siete anche amici con l'assessore Rositani, che avete invitato alla festa dell'unità. Un sacco di applausi che avete fatto, infatti qualcuno è rimasto un po' qua, ma questa è sempre una pur parler. Com'è lì la situazione? Dice che siete un po' in contraddizione sullo zuccherificio. No, vabbè, Giovanni Rositani ha fatto anche lì la dialettica politica che c'è, ma non siamo affatto in contraddizione, considerando che in uno dei primi consigli comunali siamo stati noi, parlando dello zuccherificio, a dire pur parler, sarebbe bellissimo che lo zuccherificio diventasse un campus universitario. Quindi questa cosa l'abbiamo detta noi, ma era pur parler, perché ovviamente sapete benissimo che lì la situazione non è così semplice da risolvere. Allora, adesso che esce fuori che addirittura si fa il campus allo zuccherificio, ora se è un campus co-op ce lo facessero sapere. Campus co-op? Voglio dire, l'università co-op, se magari potrebbe essere quello lo scopo della co-op, fare un'università co-op, ma noi non ne sappiamo niente, non sappiamo qual è tutto lo studio da un punto di vista urbanistico che si deve fare per fare un campus universitario. Magari fosse, ma forse c'è qualche problema perché quella è un'area privata. Dico solo questo, poi il resto, si può dire tutto, è la realtà, si può dire tutto e il contrario di tutto. Mi piacerebbe parlare con il proprietario dello zuccherificio un giorno, invideremo qui alla rana, ci proviamo, magari se viene. Sarebbe molto importante. Alleggeriamo, ha visto che stavo facendo, stavo mescolando, lei la rana la segue, seguite, ecco qua. Allora, carte, partiamo con il jingle. Carte 48, la slide non c'era anche, l'ha vista? Eh sì, sì, l'ho vista. Allora, 5 carte, andiamo veloci. Carino, carino il giochino. Ah, bene, bene, sono contento, sono contento. 5 carte e vediamo, poi le scopriamo, andranno qui in sovraimpressione e di ognuna poi ci dirà qualcosa, insomma. Quanto stiamo? 5, giusto? 5 a 5, al 5. Se me le dà cortesemente le facciamo vedere chi ha scelto, vediamo che scelta ha fatto. Allora, Matteo Salvini, Mauro Trilli, Joe Biden. Joe Biden, Michele Casadei, Mattia Furlani, grande Mattia Furlani. Allora, adesso chi ci ascolta le vede in sovraimpressione, le ha già viste, io mescolo, di ognuno mi deve dare un aggettivo o qualche cosa che lei ritiene, insomma. Vediamo, vediamo. Vado? Prego, vediamo, prima carta. Competente. Competente. Posso sbirciare io? Sì, sì. Ok. Solo il conduttore può sbirciare. Da un giudizio il mio aggettivo? Questa carta qui è competente. No, io no. Non do giudizi. Sì, però è divertente, ma è tosta. Abbiamo anche una tempistica, però faccia, faccia. Sì, sì, no, va bene, questa è durissima. Durissima. Sono in disaccordo. Sono in disaccordo. Sono in disaccordo. Stiamo avanti. Altro due. No, questo non è per niente duro. Giullare. In senso non positivo. Immaginavo. Ma chiedo alla redazione, alla regista, ma le denunce su un gioco goliardico ci sono? No, 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 chiedo perché no. In caso vi siamo, Rianna. Giullare, vai, prego. Vado? Magano due, sì, sì. Esempio. Esempio. Ultima carta? Ultima carta. Vuole un... Consiglio? No. No, no, perché... Tanta roba, forse. Eh. No, no, che dico. Eh, responsabilità. Responsabilità, bene. Adesso voi fate un'idea. Fate voi. Fate voi. C'è quel giullare che... Secondo me qualcuno azzecca. Eh, beh, penso proprio di sì, eh. Va bene, è piaciuto questo giochino, quindi, eh? Sì, molto. Bene, bene. Lo rifarei, per esempio. Lo rifaremo, lo rifaremo. Lei prima diceva del PNRR. Sì. Anche lì com'è la situazione? Siamo tranquilli, tutti i fondi arrivano? Perché c'è stato anche una vostra denuncia, un mesetto fa, forse, un po' di più, eh, su qualche dubbio, su qualche taglio, soprattutto. Sì. Com'è la situazione? Noi abbiamo mandato, eh, abbiamo fatto la richiesta di un, come dicevo prima, un consiglio comunale straordinario per capire, visto che comunque il governo ha tagliato, eh, molti fondi per il PNRR, per capire quali erano, eh, questi fondi. Noi abbiamo uno studio che è stato fatto da parlamentari del Partito Democratico, in cui ci hanno mandato proprio quali sono le opere tagliate, quanti sono quindi, eh, i milioni di euro tagliati, eh, a questo ci hanno risposto, non informalmente, quindi sempre a mezzo stampa, che, eh, nessuna opera è stata tagliata e che si prenderanno, eh, i fondi dal fondo di coesione. Ora, ovviamente, volevamo capire di più, eh, facendolo in un consiglio comunale o anche in una commissione preposta, eh, perché, eh, anche quello è molto importante, perché i fondi di coesione, eh, sociale sono importantissimi, perché in realtà il fondo di coesione sociale serve per, eh, diciamo, diminuire quel gap che c'è tra, ovviamente, un, eh, situazioni di povertà o di disagio, eccetera, e, eh, situazioni in cui si sta, si sta meglio. E quindi quella era una cosa fondamentale, perché ovviamente questo poi si è capito che è così, quindi, eh, anche per quanto riguarda le scuole, anche per quanto riguarda la cultura, anche per quanto riguarda la sanità, tutta una serie di, eh, di questioni in cui il fondo di coesione sociale è molto importante. Ora, anche lì, però, è da comprendere, no? È da capire se queste opere si fanno comunque, si prendono questi soldi da un'altra parte, allora capire dove, capire come, capire quali sono le opere tagliate, capire per chi, e io penso che anche quello sia importante che i cittadini lo sappiano, perché il PNRR non è una cosa che noi, che non sono soldi che ci arrivano, che ce li regalano, eh. Eh, no. Eh, questi sono soldi che vanno ridati all'Europa e siccome vanno ridati indietro, quindi è un presidio, diciamo, sono soldi che noi tutti i cittadini paghiamo. E anche lì, secondo me, nel momento in cui si fanno delle opere importanti, che sono fondamentali, eh, per la nostra città e per la nostra provincia, credo che sia giusto il fatto che i cittadini ne sappiano, ne sappiano e che venga spiegato loro come, perché comunque, per carità, sono tutte cose, anche delle volte estremamente tecniche, ma sono anche cose che possono cambiare la vita delle persone, sono opere che possono cambiare la vita delle persone. E quindi quello va spiegato. Certo, certo. E, eh, c'è un milione di euro messi sulla cittadella dello sport adesso anche, per esempio, anche visto che parlavamo di cambiamento di vita, per questa zona di Rieti, insomma, fare una cosa del genere, potrebbe essere anche bella da vedere, da fruirne, eh, eh, lo stadio, gli interventi, allora, lì siete d'accordo però, è una bella iniziativa, no? Questa? Non si può prescindere. Stadio? Poi? Allora, se si parla di Rieti si parla di sport, non si può prescindere, nel senso che, eh, Rieti, grazie a Andrea Milardi è diventato un faro, no? Per lo sport. Quindi se si parla di Rieti non si può non parlare di sport. La grande assenza nei cinque anni precedenti dell'assessore allo sport, che io ho sempre denunciato in Consiglio Comunale, anche nei cinque anni precedenti, non si può dare la delega a un consigliere. Rieti deve avere l'assessore allo sport, perché lo sport non è soltanto competizione, lo sport è cultura, lo sport è servizio sociale per le famiglie, per le scuole, per i ragazzi, per gli adulti, per tutti. Quindi, e poi lo sport può essere assolutamente economia. Adesso ce l'abbiamo, però, l'assessore allo sport? Adesso ce l'abbiamo. C'è una confusione incredibile sulla gestione di questi impianti, su che cosa si vuole fare. Se noi pensiamo che noi abbiamo richiesto mesi fa, all'inizio della consigliatura, un sopralluogo allo stadio, ce l'hanno dato dopo sei mesi, abbiamo fatto questo sopralluogo, abbiamo detto che secondo noi, e poi capisci bene, non è che noi siamo esperti di manto erboso, abbiamo detto che secondo noi quel manto erboso avrebbe retto pochissimo, aveva ragione, e ci avevamo ragione, ma non era per esperti, eh? Si vedeva, si vedeva, voglio dire, quando siamo entrati abbiamo detto, ve lo dico anche in maniera piuttosto reatina, un campo di patate, perché non era un campo da cazzo. Se per quanto i campi di patate che ricordo di mio nonno, ad esempio, erano un po' più ordinati, un po' messi meglio. Quindi voglio dire, c'è tutta, allora parliamo dell'ex scia, l'ex scia è stato dato in gestione, questa gestione non è stata mai fatta di fatto, dovevano esserci fatte delle migliorie, ma l'ex scia è nel degrado più totale, tra le altre cose è molto pericoloso, perché hanno rotto la rete, i ragazzi ci vanno a giocare, se succede qualcosa, quello ovviamente c'è qualcuno che ha la responsabilità di tutto quello che accade lì. Abbiamo chiesto, abbiamo fatto una commissione, abbiamo chiamato l'assessore, l'assessore ha detto che gli ha fatto la lettera per riconsegnare le chiavi, queste chiavi non si è capito se sono state riconsegnate o meno. E anche lì abbiamo chiesto anche di mettere in mora la società che aveva, l'ex scia, perché ovviamente quello che hanno versato all'inizio, la cauzione che hanno versato all'inizio, non basta per rimettere al posto il tutto, ovviamente, perché è bassissima. Quindi ci sono, c'è, un po' confusionario è molto, soprattutto sullo stadio. Sì, ma brancola un po' nel buio da un punto di vista però adesso c'è una società sportiva che la gestisce e ce n'è un'altra, parliamo della feceria, che vorrebbe? Esattamente, la SSA Rieti che ha chiesto, perché dovrebbe scadere a dicembre, se non sbaglio, che ha chiesto di averla lei in gestione. Anche qui qualcuno dovrà dire anche qualche cosa, ricordiamo anche che lo stadio è un bene di tutti, anche qui. Lo paghiamo noi, lo abbiamo pagato noi e lo pagheremo anche noi, al di là di qualche intervento che qualche privato farà, come nel caso. È molto spiacevole però questo. È spiacevole. È spiacevole che a Rieti ci siano due squadre di calcio, due squadre di basket. Ah, ma entriamo nello sportivo, mi piace, ci dica un po'. È molto spiacevole secondo me, nel senso, innanzitutto siamo una piccola città, una città che ha dedicato al basket tantissimi anni, per esempio, eravamo la città che aveva più spettatori in assoluto quando giocava in casa, ma anche in trasferta. Insomma, io mi ricordo che gli anni della presidenza Papalea io andavo in trasferta a vedere le partite, le vedevo in… Erano gli anni d'oro del grande reale. Il grande reale, esatto. Non ci sono più. Sì, non ci sono più, ma questo non vuol dire che sia passata la passione, perché la passione è indipendente da caro direttore, non è che possiamo essere tutti da Juventus. E quindi, quando uno ha la passione e la fede per la propria squadra, è indipendente che la squadra sia sempre vincente o sia perdente, no? Sì, va seguita, giusto. Va seguita. E a Riedi c'è questa tradizione, no? Ce ne abbiamo due. Più due di calcio sono quattro. Più due del calcio, ma la cosa molto triste è che c'è diatriba, non c'è. E quindi io su questo, anche politicamente, so che non è facile, so che non è forse propriamente della politica, però anche questo io su questo intervento lei. Esatto, questa è la domanda. Lei pensa che qualcuno della politica, diciamo così, avrebbe dovuto mettere, non so, seduti quantomeno in un tavolo e far ragionare le quali... Lei pensa questo? Sì. Io penso questo. Non è semplice, non è semplice perché comunque si parla sempre di investimenti privati, no? No, ci mancherebbe, però siamo persone, no? Sì. Abbiamo idee diverse, tutto quanto, una pizza si può mangiare anche con persone che hanno idee diverse, no? Ma anche solo provarci. Anche solo provarci. Anche solo la prova, secondo me, poteva essere fatta. Sul calcio Sinibaldi ci ha provato, questo ve lo dico per... Ah, beh, non... Senza diretta. Non sapevo. Sì, va bene, però sul resto non lo so. Telefonata smartphone di vecchia generazione. Una linea rossa qualcuno ha detto. Una linea rossa. Una linea rossa. Eh, no. Non so il significato. Sentiamo un po', una telefonata per lei, vediamo chi è. Siamo quasi in chiusura. Ah. Sì, sì, buonasera. Sì, sì. Eh. Su questo è difficile rispondere. Vediamo. Non lo so. Bonaccini. Eh, va bene. Grazie, grazie, presidente. Arrivederci, arrivederci. Eh, ho avuto questo onore. Non hanno sentito a casa. Chi era? Eh, Bonaccini. Ma Bonaccini? Il governatore? Eh, sì. E che... Che c'azzecca, Bonaccini? Eh, non so come poteva sapere. Ci seguiva. Ci seguiva. Ci seguiva. Diciamolo, queste telefonate sono importanti per noi, anche per voi, perché ci seguono questi personaggi e ci chiamano, come avete visto, ci chiamano al telefono, quindi è tutto vero. Che ci ha detto Bonaccini? Eh, ho detto che io ho votato la Schlein e mi ha detto, se è ancora... Lo sapeva. Lo sapeva, pensa. Ha detto, se è ancora convinta di questa... Allora, innanzitutto io ho votato la Schlein dopo... Cioè, un ticchettino della penna che denota... Un certo nervosismo. Un suo nervosismo. No, però... No, faccio, faccio. Ho votato la Schlein perché dopo grande confusione mia personale, perché reputo che Bonaccini sia un bravissimo governatore. E quindi un eccellente amministratore. Però ho pensato che probabilmente una spinta diversa in un momento di grande difficoltà del Partito Democratico, perché è inutile che ce lo nascondiamo, è un momento di difficoltà che continua, comunque. Ancora non ho visto, diciamo, quella sterzata che probabilmente era giusto dare e che secondo me è giusto dare, perché bisogna parlare di guerra, perché bisogna dire che il centro-sinistra è contro la guerra, perché bisogna dire che ci sono due popoli, due stati in questo momento, perché bisogna dire che quello che sta succedendo in Ucraina, in Russia, va fermato e va fermato attraverso trattative di pace, perché non si parla più di pace, perché noi non parliamo più di pace. E questa è una cosa che per me, per quello in cui io credo e ho sempre creduto nei valori fondanti di questo partito, lo trovo triste, sinceramente. Quindi Slain adesso si pente di averla votata? No, non mi pento, perché penso che ci voglia del tempo, non è possibile che sia immediato, tutto è immediato. Non è poco, ma non è neanche molto. Quindi probabilmente, lo saprò dire, probabilmente tra un anno, non di meno. Aspettiamo, si ricorda una trasmissione di Celentano che identificava da ogni personaggio se era lento o se era rock? Rock, sì. Lei come identifica Slain finora? Lento. Lento, lento. E Meloni? Eh, le costerà caro, ma lei dirà rock adesso. Vero? Voleva dire rock? Il discorso è un po' più complesso. No, no, adesso si fa per dire. A parte gli scherzi. A livello mediatico, a livello di come arrivano questi due personaggi, adesso per carità, ognuno ha le sue idee. Il livello mediatico è un altro. Uno è lento e uno è un altro rock. Questo è. E' che per quanto mi riguarda e per come io la penso, la politica è al servizio della gente, non è mediatica, è un'altra cosa. Questo sono d'accordo con lei, è fuori di dubbio che sia così. Però adesso è così. Allora, Avetti, grazie. Come si è trovata qui nel pozzo? Molto bene, come sempre. Grazie a te, grazie a voi, grazie ai ragazzi che stanno dietro le quinte, che lavorano molto bene, con grande professionalità dietro le quinte. Grazie mille. Grazie, grazie a voi. Grazie alla prossima. Ci dica se le rispondono dal comune, se no andiamo noi da Valentini, portiamo una cosa. Mi è incuriosito quella cosa del consiglio comunale. No, di solito vediamo se riesco, altrimenti comincerò a prendere i permessi, che devo fare? Va bene, va bene. L'ha letto e l'ha visto il nostro libro, ecco, ve lo faccio vedere, è vero, l'ho visto su Rieti Life. Si legge facilmente, ci sono molte foto, è la storia di quello che state vedendo adesso, di quello che è adesso Rieti Life, da quando è nata l'idea, ai giorni d'oggi. Prendetelo, sta nelle edicole, in tutte le edicole e in libreria in via Roma. Io vi ringrazio, seguite la nostra web tv H24 a vostra disposizione, un saluto, come tutto il nostro network, un saluto da parte mia, da parte chi, tra virgolette, è dietro di me, ma che lavora in maniera forzennata, direi, soprattutto negli ultimi giorni, per Rieti Life e per voi, per garantirvi un'informazione libera e gratuita. Un saluto, a giovedì prossimo! Arrivederci a tutti! Eleganza, qualità e cura dei dettagli. Per l'uomo, la donna e per la cerimonia. Scegli Tosti e abbigliamento, l'abito giusto per ogni occasione. Dietro ogni immobile si nasconde il lavoro dei professionisti dell'edilizia. Preparazione e competenza per realizzare con soluzioni all'avanguardia i tuoi sogni. Aleste Costruzioni Costruzioni, demolizioni, ristrutturazioni, restauri conservativi, movimento terra e manutenzioni. Aleste Costruzioni La qualità al tuo servizio Voglia di sport? Da Aimone trovi abbigliamento ed attrezzatura per tutte le discipline. Basket, calcio, running, climbing, tennis, danza, ginnastica ritmica e skate. Vieni a scoprire i migliori brand nel nostro store. Invia Giovanni Falcone 14 a Rieti. Aimone I'm the one I'm the one I'm the one I'm the one